Inaugurato ufficialmente all'interno del Franciacorta Outlet Village di Rodengo Seiano, il primo locale lombardo del progetto gastronomico italiano Bottega Portici. La seconda apertura in franchising per Only the Food, il locale, confortevole e rilassante, colpisce per l'accoglienza, l'arredo in legno chiaro, luci soffuse, zone relax e free wifi. Il vero plus di Bottega Portici sono le sfogline, che si possono vedere nella grande e luminosa vetrata, lavorare ogni giorno l'impasto per creare tortellini, tortelloni, pasta fresca. Saranno poi gli chef che trasformeranno la pasta in primi piatti, prestando attenzione alla tradizione ma anche dando un tocco di originalità e innovazione. Fondamentale è anche il contributo dello chef stellato Nino Di Costanzo, che coordina gli chef e crea gustosi piatti dal sapore tutto italiano. Bottega Portici fa parte della strategia di sviluppo e di diversificazione del gruppo Imperial, un gruppo industriale tessile, leader del fast fashion in tutto il mondo. A seguito dell'apertura di grande successo dell'hotel I Portici di Bologna, un quattro stelle superior e del ristorante I Portici, unica stella Michelin di Bologna, nasce l'idea di portare la qualità, l'alta qualità, la gastronomia italiana e bolognese su strada, alla portata di tutti. Prima volta all'outlet e prima volta in Lombardia. Abbiamo scelto questa location e Brescia e quindi l'outlet di Franciacorta perché riteniamo che il progetto di innovazione di questo outlet che si inserisce un po' in una ricerca che oggi hanno gli outlet e di concetti di ristorazione più elevati rispetto a quello che era l'abitudine, nella tradizione del passato, questo progetto si potesse sposare benissimo con la formula di Bottega Portici che è molto innovativa offrendo prodotti di grandissima artigianalità e qualità molto più accessibili rispetto ad altri ristoranti che offrono un prodotto analogo. Ma può trovare intanto, come dicevamo prima, un cibo artigianale fatto tutti i giorni, preparato tutti i giorni dalle nostre sfogline prima e dai nostri chef dopo, servito con una formula molto innovativa e in un ambiente accogliente, dal nostro punto di vista speriamo anche di altissimo livello. Sì esatto, da Bottega Portici il cliente già dal momento in cui si avvicina alla vetrina può capire cosa si aspetta, vivendo l'esperienza in maniera totale quindi vede con i propri occhi già in vetrina la sfoglina che prepara la pasta fresca a mano che farcisce le brioche, alle sue spalle vede una cucina dove oltre a preparare i piatti a creare le ricette vengono per esempio affettati i salumi per la preparazione di taglieri per il momento dell'aperitivo. Per concludere quindi da Bottega Portici il cliente può trovare soddisfazione in diversi momenti la colazione con i nostri prodotti artigianali di pasticceria chiaramente il pranzo ma anche un break pomeridiano fino all'aperitivo con i nostri taglieri, i vini e i cocktail e chiaramente il momento della cena sempre in modo smart dove la qualità rimane protagonista assoluta di qualunque momento della giornata. Certo, la qualità e l'attenzione al dettaglio è presente in tutte le fasi quindi design 100% italiano, musica italiana selezionata possibilità di caricare i propri dispositivi in tutte le sedute del locale free wifi presente chiaramente e quindi il cliente può veramente scegliere questo luogo come destinazione per passare diversi momenti della giornata, per fare un appuntamento di lavoro un colloquio e chiaramente gustare i nostri prodotti. Inoltre abbiamo anche la presenza di una piccola area market dove i nostri clienti possono acquistare prodotti selezionati dell'eccellenza italiana a marchio bottega portici o in alcuni marchi appunto selezionati nel panorama del mercato food and beverage Esatto, bottega portici aspetta con piacere tutti i clienti e aspetta anche con piacere i loro commenti con l'obiettivo di migliorarsi